No, non sto scherzando, ho detto, dai, devo avere qualche legislazione. Mi sono messo a giocare, dopo un paio di reti ho fatto il fantomone, non mi sbaglio, era il primo video. Dopo aver messo la clip su GDita, addirittura, al primo tentativo, manco un paio di reti. Non è vedere i video che ho messo in media e venire in cerno, che ho avuto un'applicato che non è mai fare. Beh, potresti pubblicare un tipo su YouTube. No, che lo compi per fare. Cioè, nel senso, alla fine è una rant, dovrei pubblicare su YouTube o potrei mettere il 96%? Vabbè, su uno list coin. Vabbè, lascia stare. O ci finisco con 100%? No, vede, prima o poi lo finirai con il livello, dai, non puoi lasciarlo così. Io quando ho fatto il 98% su Cyclone mi sono fermato. No. L'ho fatto per quattro volte, mi sono fermato, no, l'ho finito. L'ho capito, però io il 96% ce l'ho provato. Sì, però capisco con Cyclone è un'extreme facile, sono i Quave. Ma 65% su Speedrun, 44% su... come si chiama? Digital Descent. Ho qualche run buona su Digital Descent. Lo so fare, poi... Ho finito l'action. Grande. Che ti devo dire con la coppia, dimmi. Beh, se devo essere onesto, la cosa che vorrei di più su sto gioco, e poi potrei vorrei quintare perché non me ne fanno un cazzo, io da sempre ho voluto finire qualcosa che stava in top 10, no? E allora, all'inizio, nel periodo in cui tutti lo giocavano, perché bisogna dire, quando ho giocato tutti con il livello, no, no, mi sono messo a fare Zodiac. Zodiac? Ah, sì, Zodiac. Su Zodiac ho fatto 42% più 56%. La parte che è stata 42% e 56% la cacola...